Aida, Rigoletto, Nabucco, La Traviata, Il Trovatore, Romeo e Juliet, Messa da Requiem e Tre Galà. Sono queste le opere nel cartellone di quello che sarà l'evento di prim'ordine per la stagione lirica 2013 all'Arena di Verona. Sarà, annuncia commosso ed emozionato, il direttore artistico onorario del Festival del Centenario, Plasido Domingo, un evento storico che da un lato celebrerà il tenore Giovanni Zenatello, colui che trasformò l'Anfiteatro Scaligero in un teatro dell'opera e dall'altro celebrerà il musicista per eccellenza dell'opera lirica, Giuseppe Verdi. Abbiamo fatto un lavoro veramente molto delicato di trovare tutti i cantanti che devono venire. normalmente in ogni teatro, in altri teatri o teatri dalle volte, puoi avere la stessa compagnia in tutte le recite perché si fa un massimo di 4-5 recite. Qui quando in Arena, per esempio, le opere come Aida vengono rappresentate 12 volte, 14 recite, 16 recite, deve trovare diverse compagnie. Questa è la difficoltà massima, è trovare, fare nel cartellone come distribuire le recite e avere sempre la qualità nei cantanti. Vedo quello che potete vedere, lì si è fatta una scelta molto interessante in tutto il repertorio che abbiamo. Il Festival 2013 si aprirà naturalmente con Aida, che nel corso della stagione avrà due allestimenti, quello storico del 1913 e quello progettato da Franco Zeffirelli nel 2002. Oltre alle opere in cartellone, previsti anche tre galà, uno dedicato a Verdi, di cui l'anno prossimo si festeggerà il bicentenario, un galà a Wagner ed un galà dedicato proprio al cuore del Festival, Placido Domingo. Penso che un appuntamento voluto da tutta la gente che ama l'opera è Verona. Allora speriamo che l'anno 91 tutti insieme incomincieremo questo secondo secolo di tradizione areniana.